La visita guidata è la prima fase operativa del Laboratorio Storia, in cui i partecipanti conoscono o approfondiscono il monumento oggetto di studio. La visita può essere svolta in maniera autonoma o in gruppo, coinvolgendo una guida turistica, un esperto o un'esperta, per approfondire i punti più salienti della storia del monumento. Se andrai da solo o da sola a visitare il monumento, ti consiglio di produrre tre tipologie di contenuto, testi, foto e video. Ci serviranno nelle fasi successive del Laboratorio, dedicata alla progettazione partecipata e alla stesura dei testi per l'audio guida. Partiamo subito dai testi. Puoi scegliere se prendere appunti in modo tradizionale, analogico, utilizzando carta e penna, oppure scrivere direttamente in digitale. Ti segnalo anche la possibilità di utilizzare il dettato vocale per registrare le tue considerazioni e trascriverle direttamente sul documento. Questa funzione è abilitata in diversi editor di testi, come ad esempio Google Document. In questo modo avrai le mani libere, potrai trascrivere le tue considerazioni e focalizzarti su tutti i dettagli. Prendi nota delle date importanti e delle informazioni storiche che troverai nei pannelli introduttivi, sul monumento stesso o anche nelle epigrafi. Ti invito inoltre a prestare attenzione al paesaggio sonoro intorno al monumento. Riesci a sentire dei rumori o dei suoni come il canto degli uccelli o il fruscio delle foglie? Queste informazioni torneranno molto utili nella fase di stesura dei testi. E infine ti consiglio di prestare attenzione anche alla temperatura dei materiali. Prova a toccare i mattoni, le colonne, le balaustre. Che temperatura hanno? Com'è la superficie? Queste informazioni tattili serviranno per scrivere i testi dedicati alle persone con disabilità visiva. E ora passiamo alle fotografie. Osserva il monumento da lontano e realizza delle foto panoramiche. Con questa funzione infatti riuscirai a prendere un angolo di campo molto ampio, da sinistra a destra. Mano a mano avvicinati al monumento e fotografa anche i dettagli. Ripeti la stessa operazione all'interno. Realizza delle foto panoramiche e poi soffermati su elementi decorativi, elementi architettonici, affreschi. Cerca di prendere nota di tutto quello che ti sembra importante. E ora passiamo ai video. Sembrerebbe quasi superfluo realizzare dei video dopo aver fatto delle fotografie. Ma in realtà il video è un contenuto molto importante perché ci consente a distanza di tempo di riacquisire informazioni sulla spazialità e anche di avere un supporto utilissimo nella fase di modellazione 3D. Infatti quando andremo a lavorare con pianti alzati sarà utile confrontare questi documenti con i video realizzati al momento della visita guidata. Bene, adesso sei pronto per selezionare il materiale prodotto e riordinarlo all'interno di una cartella del tuo smartphone. Nel prossimo esercizio ti chiederò di caricare appunti, foto e video che hai realizzato in occasione della visita guidata. Buon lavoro e alla prossima lezione!